Non vuole capire se tu mischi le lettere, esce una cosa che non c'è a zecca, che c'è a zecca che questo fa l'arbitro nell'Europa dell'Est? Forse c'è a zecca di più lo secondo fatto qua, in quanto che lui, essendo si dà desiché, è della Lega, può uscire il fatto del fatto che lui è... Grazie a tutti!